La chiamano doggy bag, tra Stati Uniti e tanta Europa, è sinonimo della sporta con gli avanzi portati a casa dal ristorante. Ma anche senza marcare i confini, la cultura antispreco si può declinare in modo efficiente ed ecologico. Ne è convinta ConfCommercio che lancia il progetto Rimpiattino. Circa una quarantina agli esercenti che hanno aderito tra le province di Ancona, Macerata e Fermo. Nei loro locali si potrà chiedere di kit per salvare cibo e vino non consumati. Quando si va a pranzo o a cena fuori, il problema ha anche una matrice culturale. Un'indagine di ConfCommercio racconta come oltre il 50% dei clienti non chiede la doggy bag per imbarazzo.